In una giornata grigia e sotto una leggera pioggia davanti a 500 tifosi di cui 150 marchigiani va in scena una partita divertente e piacevole tra la maceratese vice capolista del Girone F e la rivelazione a Miternina reduce dalla vittoria al Delconero di Ancona. Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive dei giallorossi che si portano avanti di due golle ma non riescono a resistere al ritorno dei biancorossi marchigiani che chiudono sul 2 a 2 un risultato sostanzialmente giusto. Si comincia subito con una palla gol per gli ospiti, al quinto se ne va sulla sinistra Montanari, effetto un bel traversone per Melchiorri ma il colpo di testa del numero 11 termina di poco alto sulla traversa. All'undicesimo il gol con Gizzi che sguscia sulla destra e vede Pedalino a centro aria, bravo ad anticipare il suo diretto marcatore e a segnare il suo sesto gol stagionale. Al diciassettesimo Federici centra in aria una buona palla per Moauro ma il colpo di testa del numero 4 non centra il bersaglio grosso. Dall'altra parte si fa vedere Carboni che è bravo a liberarsi per il destro ma la conclusione è centrale e Spacca può bloccare con tranquillità. Alla mezz'ora sul rilancio del portiere di casa Pedalino va alla caccia del pallone ma allarga troppo il braccio e colpisce al volto il difensore Capparuccia. L'arbitro non ha esitazioni ed estrae il cartellino rosso lasciando la miternina in dieci uomini. Al trentacinquesimo ancora un'occasione per la maceratese ed è ancora Carboni a tentare la via del gol ma la deviazione di Spacca fa similare il pallone a fil di palo. Si va a riposo sull'1-0 e la convinzione che nella ripresa gli uomini di Di Fabio attaccheranno a testa bassa la ricerca del pari ma al pronti via arriva il raddoppio degli aquilani. La difesa maceratese è di fatto pasticcia consegnando palla a Gizzi che si mola verso l'area subisce fallo. L'arbitro lascia proseguire per il vantaggio con la sfera che arriva sulla destra a Petrone il quale scaglia un gran tiro sotto la traversa. Al minuto 16 viene ristabilita la parità numerica per l'espulsione di Romanschi autore di un brutto fallo e danni di Berardi. Paradossalmente la maceratese gioca meglio in dieci contro dieci che con la superiorità numerica. Al ventiduesimo arriva il gol che dimezza le distanze ad opera di Capparuccia che da due passi devia in rete la punizione di Carboni. Il pareggio potrebbe arrivare già cinque minuti dopo quando Pier Gallini sciupa a centro aria un ottimo cross di Orta mandando addosso al portiere. Il pari è nell'aria e si materializza al 34esimo quando Mastracani imbecca in aria Melchiorri il cui colpo di testa è respinto da Spacca sui piedi di Orta che a porta spalancata non può fallire. C'è il tempo per un'ultima occasione, questa volta per la Miterdina, ma il colpo di testa di Berardi è impreciso e termina lontano dalla porta. Negli ultimi spiccioli di Cara la maceratese sembra averne di più dal punto di vista fisico, mentre i giallorossi di casa appaiono piuttosto stanchi ma riescono comunque a difendersi con ordine e a portare a casa quantomeno il pareggio. E quando sbagli poi ti castigano, loro hanno riaperto la partita 2-1, a noi è subentrata un po' di paura e quando subentra la paura agli minuti finali più delle volte la paghi. Non abbiamo avuto quella personalità di poter portare a termine la partita a nostro favore. Sì, sono soddisfatto perché per come si era messa la partita diventava difficile pronosticare un pareggio. Però sinceramente ci ho sempre creduto perché la squadra stava giocando bene, aveva creato anche molti pericoli alla difesa loro. Poi infatti dopo aver realizzato il 2-1 ci siamo buttati a capofitto.